Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny, in questa nuovissima guida del casato dei lupi su come uccidere Skolas con le bracci di vuoto. E sinceramente, nonostante prima pensassi fosse una cavolata con le bracci da vuoto per il fatto che nessun nemico ha danni da vuoto, alla fine non si è rivelato così semplice e nel corso di questo video vi spiegherò il perché e a cosa dovrete prestare attenzione. E innanzitutto, che armi utilizzare? Purtroppo l'elemento del vuoto è quello più ignorato tra i tre a disposizione per il semplice motivo che in tutti i raid e in tutte le attività precedenti le armi da vuoto sono sempre state le più scarse o le più rare e per rare intendo dire che non esistono troppe con questo elemento, al contrario per esempio del solare o dell'arco che ce ne sono tantissime tra cui poter scegliere. E di fatto per il giocatore medio, quello che non ha avuto la fortuna di trovare armi magari comuni, leggendari delle varie fazioni ma con danno da vuoto, la scelta dell'arsenale da poter utilizzare contro Skolas sarà veramente limitata. E alla fin fine di armi da vuoto con danno elevato non esistono per niente, la maggior parte sono armi con un danno piuttosto basso ma che si basano su altri punti di forza, come ad esempio la vendetta di Predit che ha una stabilità mostruosa ma di fatto ha un danno quasi nullo e Skolas nemmeno lo sentirà. E proprio per questo motivo anche la fase iniziale del combattimento con questo boss sarà abbastanza ardua perché oltre al fatto che non potrete buttarlo giù appena entrati nell'arena come magari nelle settimane precedenti con le braccia dell'arco o le braccia del fuoco, in più questa volta farete anche fatica a togliergli il primo 25% di vita che vi consentirà di rompere il suo legame con i servitori e per questo motivo alla fine l'intero combattimento diventerà leggermente più rognoso ma nei prossimi minuti vi spiegherò esattamente come poterlo sconfiggere. Innanzitutto per chi non lo sapesse Skolas all'inizio del combattimento sarà quasi immortale, prenderà tipo 5 o 6 di danno giù di lì e per renderlo vulnerabile bisognerà per forza eliminare quel particolare servitore semi trasparente che spawnerà nella mappa, dando le spalle all'entrata il primo tutto a sinistra, il secondo tutto a destra e gli altri un po' e un po', tanto per intenderci. I punti di spawn saranno sempre quelli. Uccidendolo avrete 20 secondi esatti per poter infliggere dei danni a Skolas. Se entro quei 20 secondi non riuscirete a toglierli almeno il 25% della vita e quindi a rompere il legame con i servitori ne spawnerà un altro e lui tornerà a essere nuovamente invulnerabile. Quello che dovrete fare quindi essenzialmente sarà continuare a uccidere servitori e a danneggiare Skolas finché non gli toglierete complessivamente il 25% di vita. Da lì in poi il solito gioco, al 50% primo giro di mine e al 25% secondo giro di mine, a zero di vita ovviamente l'avete ucciso. La tattica da utilizzare si dividerà in tre parti. La prima è quando ci sono ancora i servitori da dover eliminare, la seconda generalmente nel corso del combattimento quando potrete uccidere Skolas quando potrete infliggergli danno, infine la terza quando ci saranno le mine. Quindi andando con ordine, appena entrati nell'arena dei caduti giratevi verso sinistra e andate verso il solito posto di combattimento. Ovviamente dovrete avere equipaggiate delle armi da vuoto. Ad esempio io utilizzavo l'erudito affinato con danno da vuoto, ho avuto la fortuna di trovarlo. Utilizzavo la vendetta di Predit anche se è un'arma abbastanza scarsa ma non avevo un fucile di precisione con danno da vuoto migliore. Ed infine il martello di Jolder, tutte e tre con danno da vuoto. E vi assicuro che nonostante il martello di Jolder e comunque anche l'erudito facessero dei danni veramente alti, non erano abbastanza, anche se tutto il team aveva queste armi non era abbastanza. Neppure utilizzando armi della luce con la bolla del titano, quindi abbiamo optato per tenere quella superabilità soltanto in caso di emergenza. E abbiamo affrontato l'intero combattimento con il boss più tranquillamente. In ogni caso, una volta giunti in postazione, iniziate a uccidere prima il servitore. Subito dopo concentratevi su Skolas e iniziate a fargli danno, fin dove riuscite. Quando tornerà a essere nuovamente invulnerabile, buttatevi giù da quella sporgenza da quella postazione lì e correte dall'altra parte della mappa, dove di solito spawna una delle tre postazioni da conquistare, una delle tre mine. Sfruttando le paratie come copertura, iniziate ad ammazzare tutti i nemici che iniziano a spawnare, a muoversi, a mettersi in posizione, finché Skolas non si avvicina. Una volta a tiro dei vostri fucili di precisione o di ricognizione, ammazzate pure l'altro servitore che sarà spawnato sotto di voi e che sarà più o meno in quella zona lì e ricominciate a ferire Skolas. Adesso voi dovrete girare fargli avanti e indietro finché Skolas non perderà il 25% di vita e quindi finché non sarà più necessario uccidere i servitori. Giunti a questo punto passiamo alla seconda tattica, quella da utilizzare sempre praticamente quando non ci sono le mine o i servitori da eliminare. Quello che dovrete fare sarà, siete in un punto? Bene, state lì finché i nemici non diventano troppi e finché la zona dall'altro lato della mappa non sarà completamente libera. Saltando più o meno ve ne accorgerete, capirete se ci sono o meno nemici e quando Skolas sta venendo verso di voi. A questo punto giratevi verso sinistra e correte in senso orario e arrivate dall'altra parte nuovamente e fate la stessa identica cosa. Sia nel passaggio da un lato all'altro, sia quando sarete fermi in quel punto attendendo che i nemici vengano verso di voi dovrete fare ben due cose. La prima è eliminare tutti i nemici che si avvicinano o che comunque si mettono in posizione soprattutto, ripeto, soprattutto i vandali, quelli col fucile a conduttore, i cecchini. In secondo luogo offrire Skolas. Piano piano, piano, piano dovete fargli danno. Magari siete nel punto A, chiamiamolo così, quello tutto a sinistra rispetto all'entrata dell'arena. Siete lì? Gli fate danno, gli sparate un caricatore della vostra arma, un caricatore pesante, un caricatore di cecchino, quello che è. Arrivano i nemici, andate dall'altro lato, stesso identico discorso, si avvicinerà o comunque sarà nella vostra linea di tiro e continuate a fargli danno. Fargli danno finché anche in questo caso i nemici non saranno troppi e voi dovrete nuovamente girare. E in tutti i momenti morti per il resto della partita e finché alla fine non lo ucciderete dovrete fare questo. Ovviamente dovrete anche coordinarvi ed essere vicini tra di voi per potervi passare il marchio, o maledizione come preferite chiamarlo, quel debuff che vi metterà addosso Skolas e che se non passerete a qualcun altro e tra 30 secondi morirete. Ovviamente in una fase del genere sarà cruciale la coordinazione. Non dovrete fare l'errore fatto per esempio anche da me nella partita che vedrete in sottofondo di essermi dimenticato di prendere il marchio al mio compagno e che ovviamente lui è morto e sì mi sono scusato tipo 200 volte. Ma anche in questo caso, anche se un giocatore morirà, non perdetevi d'animo, non è persa, semplicemente siete in due, continuate a girare. Se il giocatore morto era quello con il marchio è tanto meglio perché passeranno ancora tipo 10 secondi ora che ve lo mette, quindi capiterà uno dei due giocatori vivi. Lo avrà, passano 25 secondi ve lo prendete voi e intanto in quei 50 secondi circa di tempo che avete riuscite a fare tutto il giro, ad aver fatto sgomprare l'area dove è morto il vostro compagno e potrete rianimarlo. Si prenderà lui il marchio e potrete ricominciare a girare, quindi mi raccomando non perdetevi d'animo. E per concludere analizziamo la terza tattica da utilizzare quando Scolas avrà il 50% e il 25% di vita. Ovviamente a questi livelli di vita, alla metà e a un quarto, tanto per intenderci, ci arriverà continuando e continuando con la tattica numero 2, quella spiegata prima di questa. A questo punto inizieranno i due obiettivi critici, ossia quelli del disinnescare le tre mine. La situazione qui si complica un po' perché dovendovi dividere sarà veramente problematico per quello che ha il marchio e per quello che dovrà prenderlo. Il consiglio migliore che posso darvi è quello di andate tutti, tutti insieme verso la prima mina da disinnescare. Una volta lì, una volta conclusa, andate in una zona sicura, che sia una postazione da combattimento, che sia l'altra, o che semplicemente consista nel continuare a girare nel solito cerchio in senso orario che ormai siete abituati a fare. A questo punto, quando spawnerà la seconda mina, dovrete andare in due, quello che ha il marchio e quello che lo deve cedere, da un lato, mentre l'altro da solo dovrà starsene in disparte e incominciare a correre verso il posto dove spawnerà la terza ed ultima mina. L'ideale, a questo punto, sarebbe quello di scambiarsi il marchio un'ultima volta prima di dividersi, così da prendere più tempo possibile. La mina più difficile da conquistare, senza ombre di dubbio, è quella sul balconcino a destra, perché ci sono le paratie, potete stare nascosti e la conquistate davvero facilmente, mentre quella più difficile, senza dubbio, è quella centrale, quella da cui sarete esposti maggiormente. Per potervele dividere in modo equo, vi consiglio vivamente di dividervi i ruoli tra i personaggi in base alla classe che state utilizzando. Ad esempio, lo stregone, ok, può rianimarsi, ma morto una volta muore di nuovo, non è questo il problema. Quindi, allo stregone, consiglio di andare in quella tutta a destra. È la più comoda, la più facile da conquistare ed è più coperto. Per quanto riguarda invece ai titani e ai cacciatori, i cacciatori possono sfruttare l'invisibilità con la super della lama d'arco, mentre i titani possono sfruttare la bolla per essere difesi da tutti i colpi che arriveranno. E a questo punto, per quanto riguarda le divisioni delle mine da conquistare, consiglio, indipendentemente se è titano o cacciatore, quello che ha il marchio da prendere o da rilasciare dovrà andare a destra con lo stregone, mentre quello che rimane da solo se ne andrà a sinistra. Se non foste un titano, uno stregone o un cacciatore, non ci sono problemi. A meno che non siate tre stregoni, comunque riuscirete ad aggiustarvela abbastanza bene. Dovrete organizzarvi un po' in base al tempo residuo del marchio, a chi ce l'ha e a chi se lo deve prendere, e le superabilità che avete pronte da utilizzare. Come ho appena detto, a meno che non siete tre stregoni, avrete abbastanza abilità e abbastanza poteri per poter conquistare serenamente tutte e tre le postazioni. E con questa, ragazzi, erano le tre tattiche da utilizzare. Essenzialmente partirete utilizzando la tattica 1, tattica 2, tattica 3, tattica 2, tattica 3, perché dovrete prima uccidere i servitori, poi continuare a fare danno, mine, continuare a fare danno, mine, finire e ucciderlo continuando a fare danno. Una volta eliminato Skolas, potrete prendere la vostra tanto meritata ricompensa. Finalmente, ragazzi, questo video volto al termine. Nonostante la strategia spiegata in questo video fosse leggermente contorta, perché comunque risulta essere complicato per colpa di tutti i nemici presenti nella mappa nel combattimento con Skolas, sono sicuro al 100% che voi sarete dei campioni, sarete bravissimi, e avrete capito esattamente quello che vi ho detto. Quindi ragazzi, dicendo questo, il video volge al termine. Come al solito, vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato il vostro gradimento e vostra utilità, vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!